Non posso non citare un libro che coincide con l'incontro, perché il libro è l'Odissea e l'incontro è quello con l'insegnante di lettere classiche che al liceo, anni e anni fa ormai, mi fece scoprire la bellezza di questo capolavoro che contiene praticamente tutto ciò che poi noi continuiamo a raccontare, sebbene rivestito di costumi, usi diversi, ma nel fondamento è il libro che contiene già tutto. Libro che oltre a questo mi ha permesso di aprire una finestra su un mondo classico che non mi ha abbandonato tuttora e che alimenta le mie ore di lettura e la fiducia nella potenza, nella universalità della parola, soprattutto quando è scritta. Libro che oltre a questo mi ha abbandonato tuttora